Musica Serie M, la macchina perfetta, un prodotto estremamente innovativo e multifunzionale che si adatta perfettamente alle nuove esigenze della ristorazione moderna massima versatilità per le più alte prestazioni in termini di uniformità di cottura ed efficienza energetica design affascinanti e sistemi innovativi per permettere a chi lavora il massimo comfort con il brevetto Smart Open System, presa salda ed ergonomica L'ampio display LCD visualizza tutte le informazioni relative alla cottura La modalità di lavoro standard si chiama Dual Temp Technology che mi permette di impostare due temperature distinte tra cielo e platea il resto lo fa Serie M Ma la rivoluzione vera si chiama Split Deck Technology ovvero la gestione separata di quattro temperature per calibrare al meglio la potenza in quattro differenti zone così posso cuocere più prodotti contemporaneamente impostando temperature differenti È Serie M poi che decide, grazie alla gestione PID quanta potenza erogare in ogni zona massima uniformità, minimo consumo di energia la regolazione della potenza può avvenire anche in potenza impostando due livelli distinti tra cielo e platea è la Smart Backing Technology attivabile direttamente sul pressione di un tasto quindi ho la massima versatilità in ogni momento perché in ogni istante posso passare da una modalità di gestione all'altra scegliendo quelle che si adatta meglio alle mie esigenze versatilità unica nel suo stile c'è poi un sistema di potenza integrativa nella parte frontale che viene attivato in automatico all'apertura dello sportello necessario per compensare le perdite di calore e per mantenere costante le performance di cottura Per minimizzare i consumi Serie M dispone della funzione Stand By con cui si mantiene il forno caldo riducendo al minimo il consumo di energia soluzione ideale nelle fasi di pausa momentanea delle operazioni di cottura Serie M rende le cose facili a portata di mano ho a disposizione in ogni momento un timer di cottura posso movimentare la valvola di scarico vapore motorizzata nella posizione che voglio posso associare al tasto OK la funzione che utilizzo più di frequente poi ci sono i programmi di cottura ognuno con la sua icona da richiamare all'occorrenza utili per lavorare in modo automatico Serie M ti fa anche risparmiare il tuo tempo perché dispone di un timer giornaliero che consente di programmare l'accensione in ogni giorno della settimana e inoltre non mi fa preoccupare della pulizia infatti si può utilizzare un programma ad alte temperature preimpostato a tre livelli che consente di carbonizzare i residui di cottura presenti nel forno infine la cappa dotata di un potente motore di aspirazione è gestita in automatico dal forno come pure la cella di lievitazione dotata dell'innovativo Flex Cell System che mi consente di riscaldare solo la parte che utilizzo che mi consente di riscaldare solo la parte che utilizzano